Come da tradizione, l'8 dicembre entrano nel vivo le festività natalizie ed anche nella piccola comunità di Sorrentini non poteva mancare l'appuntamento annuale con la benedizione del presepe artistico, realizzato dal gruppo parrocchiale e coadiuvato dal parroco Don Basilio Pappalardo. Ritorna anche quest'anno il tradizionale presepe nella chiesetta di Sorrentini. Padre Basilio, che cosa ci racconta quest'anno di novità, qualcosa in più che avete voluto mostrare ai futuri visitatori che verranno? Anche quest'anno, qui a Sorrentini, ritorna la magia del presepe. Questo presepe è stato benedetto oggi, 8 dicembre, per la festa dell'Immacolata Concezione. Come vedete, dalle immagini ci sono diverse location. Si è pensato di aggiungere altri personaggi, si è pensato di spostare il presepe non più dalla parte destra della chiesa, ma dalla parte sinistra e allargarlo un pochettino. È stato arricchito anche dalla presenza di nuovi personaggi che si muovono, come ad esempio il palmento, come ad esempio il frantoio o come un altro esempio il panificio. Quando è possibile visitare questo presepe? Il presepe di Sorrentini è possibile visitarlo da domenica 11 dicembre a domenica 8 gennaio 2023, dalle 9 alle 13 del mattino e dalle 15 alle 19 del pomeriggio. Inoltre, nel Salone Parrocchiale è allestito una mostra di presepi visitabili sempre negli stessi orari.